L'azienda farmaceutica statunitense Insight Corporation ha annunciato la costituzione di Insight Bioscience Italy. Insight è un'azienda biofarmaceutica specializzata nella scoperta, sviluppo e commercializzazione di nuovi farmaci, soprattutto per il trattamento dei tumori e di altre malattie ancora insoddisfatte. Nel maggio di quest'anno Insight Corporation ha acquisito la società Ariad Pharmaceuticals, mantenendo dipendenti e strutture e ampliando la sua presenza in ricerca, sviluppo e commercializzazione. Insight, oltre a garantire la permanenza in azienda di tutti i dipendenti di Ariad che è stata acquisita, ha proposto un piano di assunzione che già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nell'immediato futuro prevederà l'assunzione di diverse nuove persone, di diverse nuove figure che entreranno in questa organizzazione che dovrà gestire nei prossimi anni una pipeline estremamente ricca. Al momento ci sono 14 prodotti in sviluppo, sia nell'immunoterapia che nella target terapia, che si presume possano essere effettivamente la spinta per fare di Insight una delle aziende di eccellenza nel campo dell'oncologia e delle nuove terapie. La collaborazione dell'accademia, quindi del pubblico, con le case farmaceutiche, con le aziende che hanno la forza di sviluppare farmaci, forza intesa non solo come forza economica, ma anche forza intesa come capacità organizzativa per sviluppare nuovi farmaci è a mio avviso cruciale. Con Insight stiamo già lavorando ormai da circa due anni, proprio nello sviluppo di un nuovo farmaco, che non è tanto il nuovo farmaco quanto più che altro il concetto, è un farmaco che cambia le caratteristiche del tumore, del microambiente tumorale e che sperabilmente ci permetterà di ottenere risultati ancora migliori quando combinati con l'immunoterapia. Oggi presentiamo l'ingresso di Insight in Italia ed è un momento importante, perché oggi la scienza sta compiendo grandi e veloci progressi nel trattamento dei tumori ed è quello che Insight sta facendo nei propri laboratori nel mondo. La speranza è di migliorare la sopravvivenza nei pazienti grazie al numero di farmaci che stiamo studiando. È un momento molto eccitante grazie alle future terapie di Insight. con molti prodotti che arrivano.